e ciao a tutti ragazzi buone in questo nuovo unboxing oggi sono tornato qui a lione per il weekend e visto che mi è arrivata la memory card per la playstation 2 che è qui voglio provare se funziona se funziona questa qua c'è anche una per la playstation 1 che prenderò ora andiamo a fare l'unboxing e vediamo un po cosa c'è in questa carta sono 256 megabyte di memoria 128 più 128 megabyte non è ufficiale sony è una riproduzione compatibile vitt e p2 playstation 2 made in cina e andiamo a vedere come è fatto dentro tanto visto che la playstation 2 che ho preso dal mio amico che ringrazio che si chiama giovanni ho preso questa memory card anche perché la playstation 2 modificata e quindi visto che è modificata praticamente posso masterizzarmi i giochi anche comprarli volendo e giocarci ed eccola qua ragazzi mette a fuoco 128 megabyte una parte poi si sposta qui la lancetta e altri sono altri 128 megabyte da utilizzare c'è uno switch per far cambio quando si finisce la memoria 256 megabyte memory card per playstation 2 e poi vedremo un altro video se legge il tutto niente ragazzi mette ti piace commentate iscrivetevi al canale noi come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti e belli ciao a tutti